Quello che sto facendo è misurare la purezza. Diciamo che la coca pura si scioglie più o meno a 185-190 gradi. Le sostanze con cui si taglia si sciogliono circa più o meno a 100. Un prodotto di qualità si scioglie intorno ai 140. Un prodotto di qualità si scioglie intorno ai 145-190 gradi. Un prodotto di qualità si scioglie intorno ai 145-190 gradi. Un prodotto di qualità si scioglie intorno ai 145-190 gradi. Un prodotto di qualità si scioglie intorno ai 145-190 gradi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.